Le immagini arrivano qui e poi vengono inviate alla centrale per essere usate. Non filmare dati sensibili. L'informazione non è censurata in Francia, lo sai. L'ho sentito dire. Metti l'auricolare, devi essere sempre irraggiungibile. Sta attenta dove metti i piedi e a ciò che ti può cadere addosso. E sta lontana dalle fonti di calore. E segui le istruzioni dei pompieri. Lo sai con chi sei? Sì, lo so. Grazie. Steph, sono collegata alla centrale. Siamo dentro. Sul serio? Come hai fatto? Mi sono impegnata. Vero, certo. Ok, prova a entrare nella cattedrale. Ti richiamo.